Durante la sua omilia in casa Santa Marta, il Papa esplicò che essere cristiani, essere bautizzati, essere ordinati sacerdoti e obispi, è pura gratuità. Segnalò che le doni del Signore non si compran. Il Signore ci ha letto gratuitamente. Noi non abbiamo pagato nulla per diventare cristiani. Noi sacerdoti, vescovi, non abbiamo pagato nulla per diventare sacerdoti e vescovi. Almeno così penso. Perché ci sono, sì, coloro che vogliono andare avanti nella cosiddetta carriera ecclesiastica, che si comportano in modo simoniaco. Cercano dell'influenza per diventare qui, la, 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 l'errampicatore, no? No, questo non è cristiano. Tambien explicò che la santità cristiana consiste in custodiar il don ricebito gratuitamente e non per meritori propios. I doni del Signore... ...